Di sella, Vitale deve fare i conti con il fatto che sia lui che i figli si sono presi degli impegni pensando che il lavoro in cantiere potesse essere sospeso. Ma il richiamo del cliente li ha messi nei guai. E dopo, tanto oramai questo lavoro qua, è un bel che fa il collo. Facciamo i turni e il Moreno sarà a dire di sì, ti sarà con il Nicky e facciamo questi mestieri e dopo il finione è buon questo. Se le cose ci vanno un po' bene facendo dei turni, così ho anche il tempo di andare a aiutare il mio amico e il Patrizio con suo figlio e il Moreno allenarsi con questa marcia longa e dopo ci impegneremo un po' di più per buttare avanti questo lavoro. Grazie.